E' una splendida giornata di sole, ha illuminato lo jaffrone, la prima edizione di Racchetti in Valle Bardonecchia, oltre 200 i partecipanti, tra competitivi e non competitivi, ha vinto Stefan Riccardi, invece sciando con le stelle nella conca di Prato Nevoso, l'originale gara in notturna si è svolta sabato notte ed è stata organizzata dallo Sciclab Tre Rifugi. E con queste immagini dalla montagna è tutto, grazie per l'ascolto, ora c'è il meteo e poi la linea torna a Roma.